Eccoci per illustrare come equipaggiare con l'impianto motorino avviamento originale la nuova Honda 450R 2017. Sostanzialmente il kit è composto dalla parte meccanica che comprende vari ingranaggi interni e il motorino d'avviamento. Il kit installazione batteria e la componentistica elettrica a completamento dell'impianto. Via col montaggio! Allora, terminata la fase di smontaggio dei componenti elettrici delle parti meccaniche standard, iniziamo con il montaggio del kit avviamento. Ultima operazione, emissione olio motore, siamo pronti! Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS